Buongiorno a tutti, io voglio vivere una società più bella di questo come è adesso, con l'amore, con la sincerità, senza fatti bene questo mondo che c'è adesso, senza malattie che c'è in giro, si inventano con le mascherine, ci sono tante cose, senza guerra, senza rabbia tra questa gente, senza invidia e mi piacerebbe che la gente dà la possibilità e capisce e ascolta, è questo che lo vuole bene, vogliamo bene tutti, a voi qual è il suo spazio di piacere di? Grazie. Grazie. Grazie.